Mi sei rifondato, un commento su questa sconfitta? Ma è una sconfitta sicuramente che fa male, fa male perché contavamo di portare a casa un altro tipo di risultato. È ovvio che parlare della prestazione dei ragazzi oggi è riduttivo, però non posso veramente, nella maniera più assoluta nella difficoltà in cui ci troviamo, cercare di mettere davanti la prestazione a non risultato. Quello che conto oggi effettivamente è questo, ci dispiace tanto perché volevamo portare a casa un altro tipo di risultato, dicevo perché, perché ce lo meritiamo, per come stiamo lavorando, per quello che stiamo facendo e per l'ambiente, perché sicuramente non merita una situazione del genere. Ma noi ovviamente non abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare perché è il nostro obbligo non solo morale, professionale e tutto, ma per questo dobbiamo continuare a credere su quello che stiamo facendo perché necessariamente dobbiamo portare a casa il risultato finale e faremo di tutto per ottenerlo.